... Ragusa, la maggioranza comincia a scricchiolare, attacco velato del PDL a Di Pasquale sulla pianificazione degli interventi per Marina. Ragusa, Di Pasquale, il sindaco delle tasse, intervento d'Italia dei Valori contro i continuamenti dei tributi locali stabiliti dalla Giunta. Agrem 2012, conoscere le spese sembra sempre più un percorso ad ostacoli. Oggi abbiamo presentato una richiesta di accesso agli atti. Vittoria, ancora nessun intervento da parte del Comune per la vicenda del 12enne autistico per il quale la madre ha chiesto più ore di assistenza. Un cordiale benvenuto ai nostri telespettatori, seconda edizione di Free News. Apriamo questa edizione del nostro Tg con la politica ragusana, attacco velato all'amministrazione di Pasquale da parte del capogruppo del PDL, Giorgio Mirabella, per quanto riguarda la pianificazione degli interventi da effettuare a Marina di Ragusa. La pianificazione è infatti carente, secondo il consigliere e la sua stesura, richiederebbe il coinvolgimento anche dei capigruppo consigliari. Che questo sia l'ennesimo messaggio subliminale da parte di una maggioranza poco soddisfatta del suo primo cittadino? Sentiamo. Una pianificazione corposa ma che ha delle inevitabili carenze. Definisce così l'insieme di interventi per Marina di Ragusa stabiliti dall'amministrazione comunale, il capogruppo del PDL, Giorgio Mirabella. Non si è posto l'accento, scrive Mirabella, sul problema parcheggi, sul piano di viabilità, sulla zona traffico limitato, sui servizi igienici, sulla sistemazione del lungomare con arredo urbano, sulla pulizia delle strade nelle zone magari più periferiche, sui servizi di trasporto pubblico urbano alla luce del ridimensionamento delle corse attuato nelle scorse settimane dall'Aste. Ma il consigliere lamenta anche uno scarso coinvolgimento dei capigruppo consigliari da parte della Giunta. La proposta che formula l'amministrazione scrive infatti Mirabella è di coinvolgere nell'immediato anche la conferenza dei capigruppo. Ciascun capogruppo potrebbe assumere l'impegno di suggerire interventi da realizzare prima della stagione estiva. In questo modo si evita di fare lunghe ed estenuanti comunicazioni durante i lavori d'aula, si coinvolge attivamente il consiglio comunale attraverso i singoli consiglieri e infine si potrebbero ottenere risultati immediati. Più potere e visibilità al consiglio comunale dunque, più coinvolgimento dei capigruppo consigliari sono le richieste avanzate dal consigliere Mirabella. Richieste che sembrano lasciare emergere una insoddisfazione da parte della maggioranza Palazzo dell'Aquila sull'operato dell'amministrazione. Quello di Mirabella è infatti un messaggio velato lanciato alla Giunta che va a sommarsi a quello rappresentato dalle astensioni da parte di due consiglieri della maggioranza, a Mal Felicitra, durante l'ultimo consiglio comunale su una richiesta di rinvio presentato dallo stesso centro-destra. Ma cosa sta accadendo a Palazzo dell'Aquila? Una timida rivolta in atto, ma certo ci aspetteremmo un ben più incisivo intervento da parte del PDL nei confronti di Di Pasquale. Ogni tanto qualche scatto d'orgoglio non guasterebbe ai consiglieri PDLini a Palazzo dell'Aquila per recuperare la dignità perduta. E restiamo nel capoluogo dove Italia dei Valori è intervenuta a proposito dell'aumento delle tasse. Tra Tarsu, Tosap, IRPEF, i ragusani sono tartassati dall'amministrazione comunale e al primo cittadino Di Pasquale è stato assegnato l'epiteto di sindaco delle tasse. Vediamo. Tu paghi, egli paga, noi paghiamo, voi pagate e si riscuotono. Di Pasquale è il sindaco delle tasse. I cittadini del capoluogo Ibleo sono infatti tra i più tartassati d'Italia per quanto riguarda la tassazione dell'ente locale. Italia dei Valori con numeri alla mano attacca il primo cittadino Nello Di Pasquale e la sua amministrazione che in maniera sempre più sbriugiudicata mettono le mani nelle tasche dei ragusani. Per fare alcuni esempi, l'addizionale comunale dal 2005 ha subito un aumento del 644,2%, facendo diventare Raguse il secondo capoluogo dopo Perugia, più caro d'Italia. E tutto questo mentre i comuni, a cominciare da Lodi, avevano diminuito le tasse del 42%, fonte il sole 24 ore del marzo 2011. Già nel 2008, sempre il sole 24 ore, riportava sul Ragusa un aumento del prelievo pro capito dell'80% in più rispetto al 2005. L'ICI era cresciuta del 56%, la tasse del 59%, sempre rispetto al 2005, l'imposta sulla pubblicità del 65%, l'addizionale comunale sull'energia elettrica del 2013. Tutti aumenti che hanno portato ad una tosatura zero, quasi fossero pecore, dei cittadini ragusani commentano da IDV. Ma come se non bastasse invece di recuperare l'ICI non pagata? Vedi l'ICI non pagata dai costruttori sui 2 milioni e 100 mila metri quadri di terreni agricoli divenuti edificabili? O tutte le sanzioni e penalità previste e non pagate per il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata? Oppure il canone idro che non ha riscosso più di 3 milioni di euro? Cosa fa di Pasquale? Aumenta ancora la liquida dell'addizionale comunale, portandola al livello massimo previsto dalla legge per gli scaglioni IRPEF. Per gli esponenti IDV l'addizionale comunale, che se giunge a quella regionale, colpirà indistintamente, fatti salvi i redditi inferiore a 10 mila euro, tutte le categorie del reddito, dal lavoratore dipendente al pensionato, dall'artigiano al lavoratore autonomo, ed anche il commerciante se nel frattempo non avrà chiuso. E tutto ciò in attesa ancora che l'assessore al bilancio decida quali aliquete verranno applicate agli immobili dei cittadini ragusani e dopo aver aumentato negli ultimi anni e negli ultimi mesi qualunque tipo di tributo, dalla retta per il desirinito al trasporto pubblico scolastico, dai passi carrabili al balzello per l'espurgo pazieneri, dalla tosa a palle strisce blu, dai servizi cimiteriali all'imposta di pubblicità. E rimaniamo ancora a Ragusa, dove ci occupiamo della situazione del verde pubblico. Nei giorni scorsi l'amministrazione di Pasquale ha reso noto di aver effettuato la potatura delle vie principali del capoluogo. Questa mattina siamo andati in alcune zone principali della città per vedere qual è la condizione del verde cittadino in generale e abbiamo trovato una situazione tutt'altro che lodevole. Vediamo. Altro che verde pubblico, a Ragusa si può parlare di giungla cittadina. E' dirsi che solo nei giorni scorsi il consigliere comunale Giorgio Firincelli aveva reso noto che era stata completata l'azione di recupero e di potatura lungo i viali cittadini. Attenzione però, non si tratta di tutti gli alberi della città, sarebbe stato chiedere troppo. Il comunicato stampa con cui il consigliere elogia il lavoro compiuto dall'amministrazione, infatti fa riferimento esclusivamente agli alberi di via Archimede di Viale dei Platani, che, si legge nella nota, per le loro conformazioni e la consistente presenza di insediamenti commerciali avvertono l'esigenza di un maggiore decoro rispetto ad altre zone della città. Dunque ci sarebbero vie di serie A e vie di serie B, in cui a contare sono gli interessi dei commercianti e non dei cittadini che pagano le tasse e che a diritto possono rivendicare che la loro città abbia un certo decoro. Secondo l'amministrazione invece valgono alcune vie, solo due da notare, e non altre, magari di altrettanta valenza commerciale o turistica o semplicemente strade in cui la gente potrebbe andare a passeggiare. Occuparsi della potatura di tutte le vie forse significherebbe gravare eccessivamente sulle casse comunali. Ma al di là della potatura di cui ha parlato il consigliere Firrinceli, qual è lo stato del verde in generale? Ebbene, stamattina siamo andati in alcune vie della città altrettanto importanti e trafficate, come via Marenina-Schinina, via Mongibello e lo stesso viale dei Platani. Le immagini che vedete parlano da sole, il verde è abbandonato a se stesso, l'erbaccia cresce ovunque, sui muri, sui marciapiedi, a ridosso delle strade. La vegetazione della vallata Santa Domenica sta pian piano risalendo i costoni per riversarsi sui marciapiedi di via Marenina-Schinina, dove la gente dovrebbe passeggiare, ma dove invece si corre l'unico rischio di incontrare poco simpatici topi o gatti, per non parlare poi delle problematiche igieniche. E pensare che anche la via Schinina è un'importante vetrina commerciale per la città. Siamo in una giungla, perché se l'erbaccia non viene tolta, gli insetti sono in giro, noi abbiamo un'attività di paninoteca, insomma che vendiamo panina e tutto quanto. Abbiamo chiesto al comune di sollecitare per dare una disinfettazione, di pulire qua le aiole di tutta questa erbaccia, di pulire il retro che ci dà la possibilità a noi di mantenere anche l'igiene, che i ragazzi buttano qualcosina di dietro, non possiamo nemmeno pulire perché c'è il rischio di farsi veramente male. Abbiamo chiesto solo di tenere un pochettino più pulito la piazzola, perché paghiamo un casino di suolo pubblico, ma per che cosa poi? Per tenercelo noi e poi pulito. E la risposta del comune? Sì, sì, provvederemo. Beh, visto la crescita dell'erba, si può immaginare da quanto tempo è che aspetto. Insomma, siamo arrivati al punto che sono i commercianti ad andare incontro al comune, a proporre soluzioni a solo beneficio della città, magari facendosi carico di compiti che non spetterebbero loro, quando invece sarebbe responsabilità dell'amministrazione curare le aree verdi e rendere la città intera più vivibile a misura d'uomo. E ci spostiamo a Vittoria, dove torniamo ad occuparci di Agrem 2012. Abbiamo chiesto di sapere nel dettaglio il modo in cui sono stati spesi gli 11.000 euro deliberati dalle maia, ma non c'è stato detto. Abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti, anche se dalle maia non ci hanno voluto fornire nemmeno il numero delle delibere da richiedere. Sentiamo. Vi avevamo parlato di Agrem 2012, la fiera dell'agroalimentare che si è tenuta alle maia di Vittoria. Avevamo cercato di capire quanto fosse costato alla municipalizzata organizzare Agrem e c'era stato detto dall'allora direttore Giuseppe SulSendi, oggi sostituito da Angelo Fraschilla, che indicativamente erano stati spesi 11.000 euro. Dopo aver sfogliato la brochure dell'Arem, avendo visto gli eventi in programma, abbiamo provato a fare i conti. La Camera di Commercio, per organizzare gli stati generali dell'agricoltura ed allestire lo send istituzionale, ha deliberato un contributo di 7.500 euro. Le degustazioni, invece, organizzate nel Salone Enogastronomico, sarebbero state curate dal Consorzio Strade del Vino Cerasuolo ed i due eventi collaterali, il convegno sul biogas e la presentazione di un prodotto per la crescita delle piante, sarebbero stati curati da due aziende private. Alle maia è rimasta da allestire la fiera ed organizzare la mostra pomologica. 11.000 euro per l'allestimento e la sponsorizzazione di una tre giorni della quale, inoltre, sembra che la gente non si sia nemmeno accorta, come si è visto dalle interviste che abbiamo raccolto tra la gente. Per cercare di capire in che modo siano stati spesi i soldi, siamo andati a guardare il sito delle maia, ma le delibere si fermano al 2011. Oggi, come vi avevamo annunciato, per conoscere nel dettaglio le spese, abbiamo effettuato un formale accesso agli atti. Certo, non è stato facile riuscire a presentare la richiesta perché dall'ufficio del libera e della municipalizzata c'è stato detto che non potevano fornirci il numero di delibera degli atti e che per farlo avremmo dovuto presentare formale accesso agli atti. No, non è uno scherzo, per presentare formale richiesta di accesso agli atti bisogna essere circostanziati nelle domande, ma se non ti danno il numero della delibera che cerchi, come puoi farne richiesta? Sempre dagli uffici, poi, ci hanno detto che avremmo potuto contattare il neodirettore Angelo Fraschilla, telefonata che abbiamo fatto. Il direttore ci ha detto di aspettare l'inserimento degli atti deliberativi sul sito web dell'Emaya, cosa che Emaya avrebbe l'obbligo di fare ogni tre mesi, ma il 17 aprile non ci sono ancora quelle di gennaio, febbraio e marzo. Alla fine della telefonata, poi, non sappiamo capire perché, ci ha chiesto di non chiamare più il suo numero. Noi oggi la richiesta di accesso l'abbiamo presentata, chiedendo il rilascio della copia integrale con eventuali allegati delle delibere aventi ad oggetto impegno di spesa Agrem 2012 e di tutte le delibere riguardanti l'organizzazione della manifestazione Agrem 2012. Siccome oggi è stato fornito dagli uffici e mai il numero specifico delle delibere riguardanti Agrem 2012, abbiamo chiesto di effettuare l'accesso agli atti in base all'oggetto delle delibere. Dalle Maia forse non vorranno più parlare con noi, ma le delibere, entro i termini stabiliti dalla legge, canteranno. E torniamo ad occuparci della vicenda del bambino autistico vittoriese per il quale la madre attraverso le nostre telecamere aveva richiesto più ore di assistenza socio-sanitaria. Il comune aveva detto che si sarebbe interessato, ma ad oggi non è stato messo in atto alcun intervento e manca poco più di un mese e mezzo alla chiusura delle scuole. Vediamo il servizio. Il comune di Vittoria ci aveva annunciato che si sarebbe occupato della vicenda del dodicenne autistico, per il quale la madre aveva chiesto attraverso le nostre telecamere più ore di assistenza socio-sanitaria. Il bambino, affetto da disturbo generalizzato dello sviluppo con tratti autistici, frequenta l'istituto comprensivo Consolino di Vittoria ed è seguito da un insegnante di sostegno per 18 ore alla settimana. Le ore socio-assistenziali, invece, sono due alla settimana. Della vicenda si era interessata la consulente per le tematiche riguardanti i servizi sociali, Francesca Randazzo, che aveva inizialmente proposto come soluzione quella di affidare una borsa lavoro ad un operatore che deve rientrare nei criteri di attribuzione della stessa. Ad oggi, però, niente di fatto. Francesca Randazzo quest'oggi ci ha spiegato che la soluzione del nuovo affidamento di una borsa lavoro non è possibile, ma nella scuola frequentata dal ragazzo dovrebbe già esserci una borsista con la qualifica di OSA, che potrebbe essere di supporto al bambino. Questa parte ci convince poco, perché se già esistesse all'interno della scuola un borsista con la qualifica OSA, la dirigente Angela Riolo, che abbiamo intervistato a suo tempo, ce ne avrebbe parlato. La nostra impressione è che i borsisti OSA, che pare siano quattro in tutta la città, siano stati assegnati e distribuiti nei plessi scolastici a supporto degli assistenti ad inizio di anno scolastico. Trasferire un borsista da una scuola all'altra sarebbe come tirare da una parte dall'altra una coperta troppo corta. Noi continueremo a seguire la vicenda anche perché siamo a metà aprile, manca circa un mese e mezzo alla fine della scuola e il Comune non dovrebbe lasciare la questione del bambino in sospeso anche in vista del prossimo anno scolastico. Dissesto finanziario a Comiso, la vendita dei beni alienabili, come ribadito più volte dalla nostra emittente, da numerose forze politiche e da cittadini, rappresenta la soluzione alternativa all'aumento delle tasse per risanare le casse comunali. Una soluzione che però l'amministrazione comunale non sta perseguendo almeno nei fatti, preferendo impegnare immobili come per esempio l'ex oleificio Salemi per altre destinazioni d'uso e servizio. Ma l'amministrazione comunale ha davvero intenzione di risanare le casse dell'ente con la vendita dei beni alienabili o sono solo parole? In questi mesi la giunta e i consiglieri che sostengono il primo cittadino di Comiso, Giuseppe Alfano, hanno provveduto solo ad approvare un provvedimento in consiglio comunale che prevede l'aumento delle tasse. Ma come più volte ribadito dalla nostra emittente e dai partiti dell'opposizione da semplici cittadini, non è questa la soluzione che potrà portare l'ente a reperire la somma di 25-30 milioni di euro. Sulla vendita dei beni di proprietà comunale però ci sono state solo parole e i fatti dimostrano il contrario. Di solito, quando una famiglia è in difficoltà economica e il buon padre decide di vendere i beni come case di villeggiature, terreni e beni di lusso, pur di non fare mancare ai propri figli i beni essenziali come per esempio l'istruzione. Una logica che però non appartiene a questa amministrazione casmenea. Nei giorni scorsi ci siamo occupati, come ricorderete, della vicenda che riguarda il progetto La Fabbrica dell'Accoglienza. Progetto che prevede la ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale, un ex oleificio di Via Ippari, per la realizzazione di un centro di accoglienza. Iniziativa lodevole, come detto più volte, ma che potrebbe trovare un'altra collocazione. A questo proposito, a sposare la tesi proposta dalla nostra emittente, è il Vice Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Di Giacomo, che ha invitato l'Assessore ai lavori pubblici e responsabile dell'ufficio che ha elaborato il progetto, comunale, e quindi ai cittadini. Non possiamo correre il rischio, dichiarato Di Giacomo, che per i prossimi cinque anni l'ex oleificio, che è sicuramente tra i più appetibili beni comunali per eventuali imprenditori che vorranno investire a Comiso, venga escluso dai beni patrimoniali da vendere o che venga diminuito il suo valore. Il fine del progetto è di per sé meritevole, ma bisogna spiegare perché quell'immobile e non altri di cui l'ente dispone. È la cosa principale se tale iniziativa appresentirà le casse comunali, interrogativi ai quali l'amministrazione sostiene a non rispondere, eppure appare evidente che per i beni dei cittadini bisogna perseguire le vie come la vendita di alcuni beni patrimoniali dell'ente che nel più breve tempo possibile permettano di reperire fondi finanziari necessari a risollevare le casse comunali per attenuare l'aumento delle tasse e rilanciare lo sviluppo socio-economico. Si ripete il problema del trasporto alunni per gli studenti delle scuole dell'obbligo di Scoglitti. Le famiglie pagano il biglietto per la tratta Scoglitti-Vittoria e ritorno. Il PDL della frazione insieme ai consiglieri comunali ha portato alla luce questo problema che ormai va avanti da anni e domani sarà a protestare con un sit-in che è alla fermata degli autobus della frazione. Vediamo. Siamo arrivati alla fine dell'anno scolastico ma i problemi per gli studenti pendolari di Scoglitti e le loro famiglie sono sempre gli stessi. Il problema del trasporto alunni per gli studenti della scuola dell'obbligo è ormai diventato cronico. Il PDL di Vittoria ha portato alla luce questo problema che va avanti da anni e spesso ad ogni inizio mese i ragazzi e le famiglie si trovano a pagare il biglietto per la tratta Scoglitti-Vittoria e ritorno che è tra le tante cose anche la più costosa tra le tratte della provincia di Ragusa. Il suo costo infatti è di 3,50 euro andate in ritorno ad alunno. Se qualcuno stava pensando che i problemi legati al trasporto degli studenti della tratta Scoglitti-Vittoria-Scoglitti era stato risolto hanno detto i rappresentanti del PDL si sbagliava di grosso. Ancora una volta non si guarda Scoglitti come parte della città e gli studenti vengono quasi privati hanno aggiunto gli esponenti del PDL della possibilità di accedere ad un diritto allo studio. Il coordinatore cittadino del PDL Francesco Trama ha avanzato anche una proposta all'amministrazione quella di invitare le famiglie a conservare i biglietti della tratta in questione testimoniando ulteriormente con certificato scolastico che lo studente si è recato a scuola a Vittoria quel giorno e così rimborsare le famiglie. Il PDL domani mattina sarà la partenza degli autobus in piazza Risorgimento con i consiglieri circoscrizionali di maggioranza al quartiere di Scoglitti e con i consiglieri comunali per dar voce alle famiglie e agli studenti. Un nuovo servizio al Comune di Vittoria l'ufficio telematico per l'edilizia rivolto a tutti i cittadini che hanno presentato richieste di autorizzazione o di concessione edilizia dai liberi professionisti nella qualità di tecnici progettisti che dovrebbe consentire la consultazione immediata delle pratiche edilizie presentate agli uffici dell'ente così da avere informazioni e seguire l'iter istruttorio delle richieste di concessioni edilizie dalla data di presentazione fino al rilascio per ulteriori informazioni consultare il sito web del Comune e con questa notizia si chiude la prima parte del nostro TG ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria a tra poco